buongiorno ragazzi oggi parliamo di specchi sferici faremo una prima parte partiamo dalla definizione uno specchio è sferico se la superficie riflettente è una parte di superficie sferica detta calotta sferica consideriamo un primo specchio sferico concavo si dice che è concavo se la superficie riflettente è interna cioè si trova dalla parte del centro della nostra sfera quindi questa è la superficie sferica la parte che riflette all'interno e si trova dalla parte del centro della nostra grande sfera che contiene questo pezzettino ci siete ragazzi questi protagonisti li vedremo tra un po questo è lo specchio sferico convesso se la superficie riflettente è esterna e si trova quindi dalla parte opposta del centro della sfera quindi abbiamo la nostra calotta la superficie riflettente all'esterno si riflette in da questa parte e il centro si trova dall'altra parte ci siamo ragazzi vediamo gli elementi però che caratterizzano uno specchio sferico riportiamo qua il disegno dei due specchi sferici concavo e convesso e vediamo le caratteristiche comuni i nomi abbiamo il centro di curvatura il punto c che non è altro che il centro della sfera abbiamo il raggio di curvatura r che non è altro che il raggio della superficie sferica a cui appartiene la nostra calotta abbiamo l'asse ottico principale che è questa retta che colpisce la superficie sferica nel punto v detto vertice l'asse di simmetria interseca la superficie dello specchio nel vertice v e poi abbiamo l'angolo di apertura alfa questo qui arancione è l'angolo al centro sotteso dalla nostra calotta sferica ci siete ragazzi questi sono nomi da ricordare molto bene che definiscono i nostri specchi sferici altre due definizioni importanti il fuoco e la distanza focale gli specchi sferici che consideriamo hanno un'apertura un angolo alfa piccolo ragazzi importante prendiamo questo specchio concavo inviamo un raggio luminoso che si trova vicino all'asse ottico e viene riflesso secondo le leggi su questo raggio verde vedete gli angoli sono uguali il nostro asse quindi abbiamo riflesso questo primo raggio luminoso parallelo all'asse ottico adesso inviamo altri diversi raggi sempre paralleli vicini questo tipo di raggi si chiamano raggi parassiali e vengono tutti riflessi in questi raggi verdi ma che caratteristica c'è che tutti i raggi riflessi si incontrano in un punto proprio in f che è detto fuoco e che giace sull'asse ottico definito prima nel fuoco si va a concentrare l'energia luminosa associata ai raggi riflessi ci siete ragazzi e si dalla parte del centro vedete adesso consideriamo uno specchio convesso quindi stesso procedimento però questo è il nostro asse che cosa succede il raggio colpisce la superficie viene riflesso sono divergenti in questo raggio verde quindi ri va in rr secondo le leggi con gli angoli uguali altri diversi raggi luminosi riflessi tutti all'esterno ci siete ragazzi divergono tra di loro e i prolungamenti dei raggi riflessi si vanno a intersecare nel fuoco che giace ancora sull'asse dalla parte del centro vedete tutti i prolungamenti si incontrano nel fuoco f ultima osservazione in questo caso il fuoco è virtuale e lì non c'è nessuna energia luminosa associata vediamo ora uno schemino per fuoco e distanza focale se inviamo dei raggi luminosi paralleli vicino all'asse ottico di uno specchio sferico si presentano due situazioni diverse a seconda del tipo di specchio specchio concavo e specchio convesso il fuoco f il punto che si ottiene dall'intersezione dei raggi riflessi in questo caso ed è un fuoco reale invece è l'intersezione dei prolungamenti dei raggi riflessi e quindi è un fuoco virtuale nel caso dello specchio convesso ci siete ragazzi vediamo ora di definire la distanza focale f all'interno dello schemino che è la distanza che c'è tra il fuoco e il vertice v è proprio f v ed è data da r fratto 2 nel caso di uno specchio concavo e meno r fratto 2 nel caso di uno specchio convesso perfetto ragazzi io direi che ci fermiamo qua parlando di specchi sferici nel prossimo video vedremo come si costruiscono le immagini riflesse ci vediamo domani buona fisica